No, sotto Skylight Ma davvero spari così? Dio caro! Ma davvero? Oddio! Ah che schifo! I got it on tape! I got it on tape! Eh ma perchè non gioco? Ma poi fa schifo! Ma poi Ruth muore! E' bello! Qualcuno mi ha ucciso! Di nome negro e di cagnome down Mio figlio lo chiamo così CHE! Yes! Comunque immagina no? Se ci fosse una legge Ogni cinque anni Ogni cinque anni Per cinque anni Non si può fare figli Ok What the fuck? Le mao Però It would be so good To be honest Sai che non sembra nemmeno lontano Da un futuro possibile Lo so Che hai visto? Black Mirror di recente anch'io lol No non c'entra niente No but to be honest Who cares Cioè Ho visto cosa Com'è che si chiama? But the snatch No The hundreds Praticamente è una serie Dove c'era stata una bomba atomica Nel mondo no? Loser E praticamente Non vivono più sulla terra Da cento anni E praticamente Vivono su un satellite enorme Tutto tipo tutto il mondo Sono rimasti tipo in pochi no? E praticamente Ehm Non possono avere Più di un figlio Per famiglia E praticamente Chi fa un figlio Viene Ho detto tipo 7 Praticamente Lo so Però praticamente Chi fa più di un figlio No? Praticamente Chi fa più di un figlio Viene stizzato E lo poi lo buttano Nel spazio Ma che cazzo Perchè non ammazzino il figlio? Perchè non ci ammazzano loro? Oddio E' vero Sembra una gran strozzata Comunque Perchè non ammazzino E' vero Arrazi Beh, si guarda che ci sono scivolato Ci sono le rillette F*** F*** Un blind Un flash Un nade Sto con polizia Dimmi che tipo Era qua Questa ultima kill Era qua Guarda questa Questa kill Ma che cazzo Allora Io c'avevo un tipo davanti no? L'ho coltivito Questo qua è andato da una parte Dove c'era il muro E non potrà passarci oltre Però era dall'altra parte Non ho capito Allora Entrato 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 Ma tu spari malissimo Non stanno plantando ancora Non stanno plantando ancora Ci sei ossia Bella Telecamera Bravo Comunque se stiamo come team con questi E' un'altra lo devo diservare Folggere Regolando Sul Continuo Mi piace Se siente Spari Ascara Nessun Ero Del Del Un 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 Non sono rumeniano, sono armeniano c'è una differenza non è dracula BITE THAT ASS BITE THAT ASS poi mi sono alzato in fila e ho ondeggiato le hunk e ho fatto BITE THAT ASS non fatevi mai perché mi occupa davvero Overwatch? guardamelo anche voi, basta 20 euro, al massimo lo troppiamo ma basta tipo, quindi non si pensa nemmeno ma stai? dove stai? mi rinforzo li sto rinforzando tutti i due fai una smoke per te, vai avanti no te l'ho tirata io a te bro vieni a plantare vieni a plantare vieni a plantare vieni a plantare 1 non sono io 1 vai su, vai, planta, planta vengo la scena questo cross qua sono buono e qua c'è devi andare su e mettere le grappole non si può eh no, non c'è baricata vai su e libero è completamente libero si guarda il libero ok, è il mio defuso da destra non lo vedi sta defusando da destra un, un left è in server, server non pigli è in defusa in un secondo no, no, non è defusing ora? defusing, defusing defusing wait YES, LET'S GO ECHE GET IT la premuta al 0 le ha vinto tanto perchè l'ha vinto la BOMBA la BOMBA B Need la BOMBA BINGE quando fai la carta e la forbice o ho vinto però poi prendi una arcetta Egli tagli la mano Sì Creer Oh no, non c'è spenta Creer Creer Non c'è l'arma Non c'è l'arma, non c'è l'arma, non c'è l'arma Non c'è l'arma Adò questo ultimo kill Non c'è l'arma, non c'è l'arma Friendly mission offer Ehm 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 Ehm